Ciao, qui è Gamer e oggi sono qui per mostrarvi il giocattolo di Leonardo e dei Detailies of Super Shredder una collezione davvero limitata che contiene soltanto Michelangelo, Raffaello, Leonardo, Donatello, Super Shredder e poi hanno tutto il Crimson Leader che sarebbe Tiger Claw Vediamo subito i dettagli, ha tantissimi shuriken come possiamo vedere ha dappertutto dei caprispalle, sono qui, altri qui dietro, anche sulla mano questo giocattolo è davvero bellissimo, la cosa che mi piace è anche il guscio decorato e la cosa bella è che si mimetizza benissimo, guardate eccolo bene, dopo questo momento molto strano possiamo tornare a parlarne è davvero bellissimo, come ho già detto prima, scusate se continuo a ripeterlo ah, qua ci sono altri shuriken gli arti che si possono muovere sono davvero tantissimi la faccia anche, le braccia si, si, si e si si può muovere praticamente tutto questo giocattolo è stato fatto nel 2016 dalla Toys cosa che non saprete, che tanti non sapranno magari per, perché magari come me, collezione di vidi delle serie e di vidi diciamo ancora non sono usciti usciti, per chi non lo sa non è finita lì la serie continuo ancora io penso che questo video vi sia piaciuto molto per il personaggio e spero di e spero che lascerete un bel like che vi scriverete e ci vediamo in un prossimo video ciao